Dal 6 al 26 giugno 2013 alla Galleria Firenze Art, in una delle sedi della Firenze Art, quella di Via della Fonderia, è in corso una mostra dedicata a un grandissimo artista Renato Natali e a fare da corona alle sue opere quelle di numerosi post macchiaioli. Una rassegna selezionata da Andrea Tirinnanzi, direttore artistico della Galleria. Ma sarà come sempre, quando veniamo alla Firenze Art per proporre delle mostre ai nostri telespettatori, la dottoressa Gabriella Gentilini a presentare le opere e a invitare ovviamente i nostri telespettatori a venire a visitarle fino al prossimo 26 giugno, un'occasione imperdibile perché a Firenze tante opere di un maestro grande e importante come Renato Natali tutte insieme difficilmente si sono viste negli ultimi vent'anni. La sede è in Via della Fonderia al numero 42 Rosso, in prossimità del Ponte alla Vittoria e gli orari di apertura sono dalle 9 alle 22, quindi un orario inconsueto, ininterrotto dal primo mattino fino alla sera. Nei festivi apertura eccezionale dalle 9 alle 13, quindi un evento eccezionale e un'apertura straordinaria della Galleria. Gabriella, cosa troveranno i nostri telespettatori venendo a visitare questa preziosissima mostra? Sì, troveranno appunto una mostra di grande spessore che si apre con delicati disegni di Telemaco Signorini, quindi un omaggio e un preludio al padre, al fondatore, uno dei fondatori del movimento dei macchiaioli che nacque attorno ai tavoli del caffè Michelangelo. Gli intensi contrasti cromatici che proprio connotano la macchia li troviamo nei loro esiti più alti nelle opere di Renato Natali, qui presente con ben sette dipinti inediti di grandissima qualità. E di grandi dimensioni. Esatto, di grandi dimensioni. Sì, si va dal pescatore di polpi del 1930 alle ragazze di campagna, alla pastorale, a questo bellissimo quadro che rappresenta il mare di Livorno visto dalla terrazza Mascagni, è un'opera monumentale, straordinaria, degna di museo vorrei dire. E infatti il mare, la campagna, i borghi del territorio livornese sono al centro dell'attenzione e degli artisti che fanno parte dello storico gruppo labronico. Si va da Giovanni Lomi con le sue atmosfere luminose e solari, a Guido Guidi con le sue figure assorte, a temi popolari trattati da Bassoragni. Grazie a tutti. Al naturalismo di Masaniello Luschi, senza dimenticare naturalmente Giovanni Malesci, allievo ed erede universale di Giovanni Fattori. E poi si continua con Carlo Domenici, la sua raffinatezza ed eleganza formale, i fratelli Paolo e Valentino Ghiglia, il primo notissimo ritrattista di livello internazionale, il secondo straordinario interprete della natura morta. Poi si passa alle solarità di Giorgio Luxardo per giungere piano piano fino a noi, ad Angelo Volpe, fino ad arrivare al fiorentinissimo Graziano Marsili, erede e continuatore della più alta tradizione toscana. Direi che è un po' un escursus sulla pittura labronica che va da Renato Natali ai post macchiaioli più vicini a noi, così per tentare un po' una ricognizione, anche un approfondimento su temi più diversi, di questo movimento così vasto, così importante, che connota un po' l'arte della nostra regione. Quindi una proposta particolare, direi anche un po' d'elite, ma su cui lavorare, approfondire, è una mostra sicuramente da vedere, perché le opere, ripetiamo, sono tutte inedite. Noi ringraziamo ovviamente la dottoressa Gabriella Gentilini per il suo apporto critico a questo nostro servizio. Invitiamo i telespettatori a venire a visitare l'omaggio a Renato Natali, ideato e voluto da Andrea Tirinnanzi, direttore artistico di Firenze Art, ma non ci sarà solo il grande Natali, ma come ci ha ricordato ora nel suo intervento la dottoressa Gentilini, anche una schiera di importanti pittori post-macchiaioli che lo hanno preceduto e alcuni lo hanno seguito sulle orme dei grandi maestri, da fattori signorini, c'è un abbatico, insomma, grandi. Allora, vi ricordo la durata della mostra dal 6 al 26 giugno, l'orario di apertura, tutti i giorni feriali, ininterrottamente, dalle 9 alle 22 la galleria è aperta al pubblico con ingresso libro. Nei giorni festivi è prevista l'apertura solo antimeridiana, dalle 9 alle 13, l'indirizzo è via della Fonderia, 42 Rosso, in prossimità del Ponte alla Vittoria, ovviamente a Firenze, prossimo appuntamento della Rassegna dei Grandi di Toscana, con Alviero Tatini, il maestro Fiesolano, scomparso qualche anno fa, ma al quale tutti portiamo un ricordo affettuoso, perché grazie a lui nacque 25 anni fa la nostra trasmissione, il primo servizio fu a lui dedicato, e quindi con piacere proporremo ai nostri telespedatori le sue opere nel successivo servizio che realizzeremo con la dottoressa Gentilini e con Andrea Tirinnanzi alla Galleria Firenze Art di Firenze.